Musica Musica C'è questa cosa? Chuva in me s'cura vediamo dei miei Ongalikò, si vedi a chiudere a voi qui vi vedi di una chila Ongalikò, Ongalikò Ongalikò Si è in più, in più, allora ho un bel suo Il mio, non è un bel suo Io sono no, non è un bel mio Ongalikò Ongalikò VALAKOTI! 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 C'è chi chi mi fa? Nanga io e namo? Nanga da un'e gattizzai! VALAKOTI! VALAKOTI! e'e ilmlè ibek di chi si che e sc numbechino di te del di nonarevano! Sì, cadi cadi la mano. Ora vuole. Vuole vuole. 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 Anni alla panna cattiva la scuola. Anni alla panna cattiva la scuola. Anni a cattiva la scuola. Voi manteniti in la parte. Anni a cattiva la parte. Voi manteniti in la parte. Voi? Voi? Voi di voi. Voi, come te qui carai sei la scuola! Noo, come te qui! My god! Voi, come te sape. Noo… Noo… Come te qui! 可是 no! Si 너 dannas leastotica, lo ne la subway è Il mio come! Ma a te lo insegnate! Ma c'è no lo so? Ma non mi te fa aggiungi i costi? Ma vabbilippo è Sina Cina tosi, mi troi? Iscriviti Ava? Ma �ade sianche ? Ma mosso, 되어 che uno andré Sina Cina del mio con realtà Si lei riesce a conviene negli un 나서 Perché le più ricezione a no. Si stia toetica scheggi il primo è il primo è che va di fatto! sessore! 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 era... imorbandi! 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 6-7-7-8-9-10-10... che! un primo è un dottore, un male non va werdi a caro, un pollo è un dottore! Non la nave, non la nave, non la nave, non la nave. Se avessi, noi andiamo adesso c'è? Allora, papa, tengo un paziente il mio paziente! Eccolo O Nulla Nammakall, E'engri dela Nannatatatri E'a Man that's not Man that's not Oh! Ant backside E'n e'eppida E'e'n E'e'n E'n T'en E'e'n Nannatatatri 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 E'e'n E'e'n Nannatatri A'e'n A'e'n Sì? 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 Sì, no, 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 no. Voi hai visto? Mi ho fatto? Mi ho fatto tutto il ragazzo che ci hanno fatto. Mi ha detto che ci hanno fatto un nagrazione. E così? Mi devo andare suprappando? Mi vuoi sordere! Cucco! Mi sono? Cucco! Cucco! Ma... Cucco! 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 Sì sono stato fatto! Avello ora! Significa! Significa! Sì! Appadam... Appadam... Un'è.. Un'è 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 è un po' che vanno venuto. E' un po' che vuoi vittima. Viva sani. Pala, Pala. Andhà viva sani. Andhà viva sani. Andhà vittima. Andhà vittima arivi. Kruvamo. Andhà andhà. Andhà ariyà ariyà arivi. Andhà arivi. Andhà graamaththi le in questo modo il primo è il primo il primo